Nella provincia dell'Aquila il fenomeno del bullismo non è un'emergenza. Nel 2017 soltanto 10 casi che hanno coinvolto minori, ma prevalentemente nella Marsica. Allo scopo però di poter intervenire meglio e prima, e soprattutto andare incontro ai giovani, la Polizia di Stato da oggi ha attivato all'Aquila e negli altri capoluoghi di regione, tranne Bolzano, un'app chiamata YouPoll, già operativa a Roma, Milano e Catania, dove ha avuto dei feedback positivi. L'app ha lo scopo di permettere a giovani ed adulti di interagire con la Polizia di Stato, consentendo l'avvio di segnalazioni di episodi di bullismo o spaccio di droga, con possibilità di inviare anche foto e video. Un sistema che garantisce la localizzazione esatta ed immediata del dispositivo segnalante e del luogo interessato dall'evento, anche se questi sono distanti tra loro. Sta diventando un fenomeno sociale e ci preoccupa sempre di più. Ogni giorno sentiamo alla televisione di fatti di prepotenza e di violenza nei confronti di ragazzi ed è proprio per questa ragione che gli esperti informatici della Polizia di Stato, seguendo le direttive del Capo della Polizia, hanno studiato questa app che oggi vi presentiamo anche perché parte e diventa operativa anche qui in Abruzzo, nel territorio dell'Aquila e che consentirà di segnalare eventuali abusi o anche luoghi o circostanze che attengono a questo fenomeno. Tra le opzioni c'è anche quella che consente di effettuare una chiamata di emergenza 113-112 nella provincia in cui l'utilizzatore si trova, un progetto dei tecnici informatici della Polizia di Stato, semplice da usare, che consentirà di scovare molto sommerso, ma soprattutto di andare incontro ai giovani che utilizzano sempre più le nuove tecnologie. Per scaricare l'app basta andare sui classici store gratuitamente e si potrà installare sul proprio telefonino. Gittoressa, il vantaggio è un po' di scovare il sommerso tramite l'applicazione in cui si può denunciare anche in forma anonima? Sì, il vantaggio e l'utilità è proprio questo, perché si tratta di un reato che ha un numero oscuro elevatissimo. ed è per questa ragione che si è pensato appunto di consentire segnalazioni in forma anonima in modo tale da poter avviare poi un dialogo con chi segnala e far emergere fatti che in qualche modo altrimenti non verrebbero resi noti se non magari quando diventano troppo gravi. Grazie. 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 Grazie.